Le giornate di lavoro secondo me hanno portato a confrontare sia aspetti teorici in cui l'interdisciplinarietà e il modo di lavorare necessario su questi temi, ma anche una serie di casi concreti, con i loro problemi, contraddizioni, conflitti. La ricerca sui luoghi che hanno una radice religiosa che vogliono mantenere un ruolo di valori spirituali, di valori umani, di valori antropologici richiederanno uno sforzo di continuare a tenere i due registri, un registro alto di pensiero, di visione, di futuro, di profezia, ma una grande concretezza nel monitorare le cose che si fanno. Quindi penso che l'impegno che tutti i relatori porteranno a casa è quello di individuare delle esperienze che possono essere studiate, approfondite e confrontate diventare delle pratiche su cui costruire delle ipotesi di lavoro.